Quindi secondo me nella vita ci sono tante cose difficili e una delle più difficili è proprio, come hai detto te, confrontarsi con se stessi. Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Socialite, luce nella società. Grazie per aver scelto i nostri contenuti e quest'oggi ho il piacere di presentarvi un ospite davvero informarmi su di lui mi ha incrusito tanto e sono davvero felice di averlo qui e vi voglio presentare appunto Lorenzo Marcantonini. Ciao a tutti e grazie mille per avermi invitato, sono veramente onorato. Grazie per aver accettato, è davvero molto importante. Faccio una piccola intro, Lorenzo appunto è un calciatore della Nazione Italiana Amputati nonché anche atleta parolimpico ma nel mente poi metteremo qualcosa per conoscerci un pochettino meglio. La domanda che faccio all'inizio che aiuta un pochettino anche a introdurre l'ospite ma che probabilmente non mette neanche a tuo agio te perché è una di quelle più esistenziali di questo mondo e appunto se tu dovessi rispondere chi è Lorenzo, alla domanda chi è Lorenzo, cosa risponderesti? Sì sicuramente iniziare con questo tipo di domande è subito una grande emozione, una domanda importante. Io direi che Lorenzo è un ragazzo che non si accontenta mai, che vuole puntare sempre in alto soprattutto per rendere felice se stesso e per cercare di ottenere più cose possibili perché poi ogni cosa ti arricchisce, ogni cosa è esperienza secondo me ed è un'emozione viverle. Sicuramente questa fame si vede anche dal lato sportivo comunque no? Abbiamo detto comunque che fai parte della Nazionale appunto di Calcio Amputati no? Raccontaci un pochettino la storia. Allora sì io sono entrato nella Nazionale veramente giovane, così tanto giovane che non potevo giocare perché avevo all'incirca 14 anni. In realtà la Nazionale è nata nel 2012 per la volontà dell'attuale capitano Francesco Messori e da lì poi è nata tutta la storia della Nazionale, la mia storia perché mi sono legato fin da subito al calcio e sono partito subito in quarta. La storia della tua amputazione nasce comunque da piccolo no? Esatto. A quattro anni giusto? Sì a quattro anni ho dovuto amputare la mia gamba sinistra perché io ero nato con entrambe le gambe ma proprio nella gamba sinistra avevo una malformazione cioè non avevo la tibia. I miei genitori ovviamente in panico perché non sapevano come gestire la situazione giustamente hanno deciso di girare tutto il mondo, tutta l'Europa fino a raggiungere diciamo una conclusione dettata e consigliata soprattutto dai medici di Bologna quindi neanche troppo lontano da casa. Esatto, giro il mondo e poi alla fine per tornare. Visto che sono di fano nelle marche quindi e lì i medici gli hanno consigliato di amputare la gamba perché avrei avuto una vita migliore e alla fine avevano ragione sia i medici sia i miei genitori a prendere quella scelta perché poi la mia vita è come se fossi nato due volte. Ho letto, ho studiato un pochettino che tu hai cominciato con lo sport con un approccio sulla piscina, sul nuoto. Come è stato questo approccio a questo sport o allo sport in generale comunque? Allora ho iniziato esatto con il nuoto perché mi avrebbe fatto bene sia a livello fisico sia come riabilitativo giustamente però era bello ma non è che mi faceva impazzire e in più ci sono avuto anche dei disguidi con i miei genitori diciamo soprattutto mia madre con altri genitori perché i figli degli altri genitori dovevano condividere lo spogliatoio con un ragazzo disabile, con un ragazzo senza una gamba e questa cosa gli dava fastidio tra virgolette aveva paura che potesse incidere sui loro figli. I miei genitori sono sempre stati dei grandi, hanno sempre combattuto per qualsiasi cosa e non sono mai fermato niente. Infatti neanche questo per loro era un problema però per evitare che io mi facessi dei problemi mi hanno magari a volte fatto cambiare corso di nuoto o altre cose ma non sono mai arresi come giusto che sia però questa magari passione per il nuoto io non ce l'ho mai avuta quindi da lì sono passato a giocare a calcio con la protesi cioè con la gamba finta grazie ai miei amici i miei amici che mi hanno subito portato a questo sport perché loro ci giocavano volevano che entrasse anch'io in questo mondo e in più c'era la passione per mio padre per il calcio che ha aiutato tanto e tu ci hai parlato appunto di questa paura dei genitori che magari possiamo definirla anche un po' ignoranza e mi permetto di dire e tu come l'hai percepita da bambino? se l'hai percepita forse magari i tuoi genitori sono stati così bravi da non... allora ovviamente quando cresci capisci più cose quando sei lì ragazzino ti fai delle domande magari però non è che vai in fondo a cercare una vera risposta mi accorgevo che magari anche nella scuola quando facevo gli elementari ero io il ragazzo diverso perché non potevo correre come gli altri magari loro facevano qualcosa che io non potevo fare ed è una cosa che non dico mi pesava però la percepivo magari è anche per questo che sono dovuto crescere in fretta e farmi delle idee su me stesso e sul mondo in generale però alla fine dei conti è una cosa normale perché ho capito che siamo tutti diversi nessuno è uguale e nessuno soprattutto è perfetto io ho avuto la fortuna di conoscere altre persone che hanno avuto problemi sul bullismo e anche legate alla disabilità che mi dicevano che dicevano in questo mondo nessuno è abile al 100% tutti abbiamo una forma di disabilità più o meno visibile te cosa diresti e a volte nella società non so italiana ma in generale comunque c'è questa forma di tabù sulla disabilità te cosa diresti per esempio a quei genitori? allora sicuramente più che lavorare sui genitori io continuerò a lavorare sui ragazzi, sui figli perché anche adesso mi chiamano parecchie volte a parlare nelle scuole e non solo dalle mie parti è una cosa che mi fa molto piacere perché tu è lì che devi dare l'istruzione e sono loro che torneranno a casa e diranno ai genitori guarda c'è stato questo ragazzo a scuola e mi ha detto questo, questo, questo e la disabilità comunque sia non è un problema perché sì questo tabù è presente non solo in Italia vedi un ragazzo in carrozzina e subito ti viene un po' di pietà ti viene un po' a dire poverino come fa a vivere così invece io girando il mondo ho conosciuto veramente persone stra 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 fighe che spaccano il mondo che siano in carrozzina che sia con una, con due gambe, con un braccio c'è nessuno, è perfetto e soprattutto queste persone lo dimostrano non siamo, e mi ci metto anch'io ma non per diciamo per mancanza di umiltà ma perché tante volte dicono siete dei supereroi, siete fantastici, fate cose incredibili invece secondo me no, facciamo cose normali seguendo le nostre passioni e quando magari smetteranno di vederci come supereroi tra virgolette questo tabù sarà sfatato perché poi siamo ragazzi, ragazze, adulti normalissimi e magari uno crede di fare un complimento ma in realtà forse aumenta il divario che c'è tra sì ovviamente magari qualcuno lo dice non per volere diciamo per ignoranza o per altro, magari proprio per un complimento però il più delle volte si fraintende non dico, non fraintendere nel senso che ti offendi però perché magari volesti far capire cose che in quel momento è difficile, ci servirebbe tanto tempo per spiegarle alcune cose quando vai nelle scuole no, qual è il tipo di domande o magari tipo l'approccio che tu usi con i bambini o non lo so le curiosità che magari ti, le domande che ti fanno per curiosità allora prima cosa io andando nelle scuole io capisco che sto invecchiando anche io eccolo perché io ho vent'anni però veramente vado lì nelle scuole e mi ripenso quando ero io tra i banchi ed è veramente una cosa che ti fa pensare quello sì è passato troppo tempo sembra però è vero è passato tanto tempo la prima cosa quando vado nelle scuole che ci tengo a sottolineare è che tutti i ragazzi devono essere liberi di farmi qualsiasi domanda che sia personale, sportiva, che sia magari intima perché per capire anche la disabilità devi entrare, non dico nel profondo, però devi essere libero, non avere i pregiudizi e soprattutto devi chiedere quello che ti senti faccio tante volte l'esempio di quando sono andato in una scuola dove la domanda più assurda tra virgolette che mi hanno fatto è che poi non esiste una domanda assurda però quella che mi ha fatto più ridere è se do i nomi alle mie gambe perché a casa ho parecchie gambe sia nell'armadio che fuori però anche brutto dirlo così e lì mi ha fatto ridere però mi ha fatto anche capire che non c'è un limite alla fantasia dei ragazzi, dei bambini perché veramente quando abbatti quella barriera che dicono poverino magari chiedo qualcosa che si offende quando abbatti quella barriera poi si liberano, fanno qualsiasi domanda ed è quello il bello perché tu gli rispondi e loro apprendono qualcosa che prima non sapevano e sono sicuro che andando avanti magari incontrando qualche ragazzo che ha dei problemi che è in sede rotella e non lo guarderà più con quello sguardo poverino ma si penserà che figo magari questo fa qualche sport magari questo non lo so è guida perché poi c'è anche quei pregiudizi lì tante persone mi dicono ma come fai a guidare che non c'è una gamma in pratica ho una macchina automatica normalissima che mi permette di fare e di essere indipendente ed è quella la cosa importante secondo me essere indipendenti nonostante i problemi che tu abbia Te ci hai parlato degli amici che ti hanno coinvolto nello sport quanto è importante davvero avere un gruppo che non accentua comunque la diversità la problematica ma invece include? Allora sì è importante perché tante volte magari ti troverai ad affrontare situazioni difficili però io sono dell'idea che ti devi fare tanta forza da solo e prendere dalle persone che hai veramente vicine che sia la famiglia che sia magari qualche parente proprio amico stretto oppure da te stesso perché quello che dico sempre è che tu comunque sia tutta la tua vita la dovrai passare solo con una persona con te stesso ed è lì che devi partire devi credere in te stesso devi rispettare te stesso e soprattutto devi essere fiero di ciò che sei perché comunque sia è una cosa che non si può spiegare devi essere sempre con girare la testa alta ed essere felice per quello che hai perché niente è scontato e ogni giorno è un dono quindi devi essere felice poi se ti trovi in un gruppo che ti aiuta è tanto di guadagnato Te invece dove hai dato la forza? tu te stesso o anche in altri? Sicuramente dalla mia famiglia ho appreso veramente veramente tanto ho appreso qualsiasi cosa soprattutto ad essere forte e andare avanti perché loro mi hanno trasmesso prima di tutti i valori di una persona sana e successivamente mi hanno insegnato a non mollare mai e soprattutto a non abbassarmi davanti a niente perché niente è impossibile, non esistono ostacoli e niente dopo ovviamente quello che ti danno tu apprendi, assorbi, assorbi e diventi la persona che sei non finisci mai di imparare quello sono sicuro però tanto se non tutto lo devo a loro io vedendo un pochettino i video che tu fai le collaborazioni che fai con altri youtuber e comunque hai una positività e una carica incredibile ci sono stati dei momenti in cui è stato difficile mantenere questa positività? che sembra quasi un tuo marchio di fabbrica anche quando abbiamo parlato prima della registrazione ma anche adesso comunque è tangibile sì sicuramente anche perché poi magari quando hai questa abitudine di essere sempre felice anche le altre persone si aspettano che tu sia sempre felice e non abbia mai problemi però non è così ovviamente anche io passo dei momenti difficili passo dei momenti no e tuttora li passo perché comunque sia la vita è un sale e scendi tra virgolette devi essere bravo a rispettare il tempo perché come c'è un momento felice devi sapere anche che arriverà un momento magari meno felice perché la vita è fatta così e soprattutto quando sei in un momento triste arriverà sempre il sole arriverà sempre la luce perché funziona così devi sempre pensarla in maniera positiva anche se vedi tutto buio è una cosa che non è facile da spiegare però magari tramite un'altra persona tramite anche come hai detto te i video che faccio con altri youtuber perché anche quella lì è una possibilità che per me è grandissima ma poi spero che aiuterà sempre il prossimo magari un ragazzo che ha qualche problema e lo guarda da casa e dice perché se lo fa lui non lo posso fare anch'io e questa è una grande cosa secondo me durante l'adolescenza comunque bene o male ogni persona si approccia comunque al cambiamento del suo corpo si apre comunque alla società uscite eccetera 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 ci sono stati episodi in cui magari ti hai chiesto cavolo ma perché è successo a me potevo fare X e invece mi ritrovo A sì è capitato tante volte di chiedere ma perché proprio a me perché tra tutte le persone io però andando avanti facendo quello che faccio anche adesso tra virgolette la penso più al contrario dico penso se avevo due gambe sicuramente questa cosa non la facevo è una cosa che si cambia un po' il modo di vedere le cose perché sta brutto dirlo ma se avessi avuto due gambe probabilmente sarei stato come tutti gli altri ragazzi non che c'è di male essere come gli altri ragazzi però magari hai quella sfaccettatura che ti differenzia dagli altri oppure ti apre delle possibilità perché io sono andato a fare anche collaborazioni con grandi con grandi marchi ho fatto grande esperienza ho conosciuto grandi persone che mi hanno dato possibilità enormi e sicuramente se avessi avuto due gambe non le avrei mai fatte ma non per un fattore diciamo scontato hai due gambe allora sei come gli altri ma per un fattore proprio oggettivo tu non hai una gamba tu riesci giochi a calcio e sei una persona comunque che si vuole sempre mettere in gioco conosci persone e ti si aprono dei mondi ed è una cosa naturale tra virgolette è anche la cosa bella diciamo dello sport e della vita e tu hai trasformato praticamente quel problema in un valore aggiunto sì è un po' una rivalza tra virgolette riesci a trasformare il tuo problema ma che sia magari fisico o anche semplicemente mentale o caratteriale puoi essere anche una persona timida e anche quella può essere considerata tra virgolette come una disabilità perché magari tu ti reputi diverso dalle altre persone sta tutto nel nel confrontarsi prima di tutti con se stesso superare quel quel problema tra virgolette mentale che ti crei da solo e poi la strada è in discesa perché non ci sono problemi anche perché il primo nemico a volte siamo proprio noi stessi esatto quindi è una sfida che se la vinci poi riesci a superare molti molti ostacoli però è duro è duro è duro sì come giusto che sia anche perché se fosse facile quando raggiungi certi traguardi non avresti quella soddisfazione quindi secondo me nella vita ci sono tante cose difficili e una delle più difficili è proprio come hai detto te confrontarsi con se stessi allora te sei passato praticamente dal guardare il calcio comunque in tv ahimè guardavi la Juve in questo caso esatto io mi dissocio su questa cosa ognuno ha i difetti per carità perfetto poi piano piano giocando con gli amici hai cominciato comunque approcciarti a un nuovo sport al di là del fatto che sia collettivo comunque ti ha aperto anche la socializzazione però sei passato dal nuoto in cui non è mai nato l'amore esatto hai questi primi calci ad un pallone appunto no questa è la sensazione di approcciarti a uno sport che poi ti ha conquistato letteralmente allora ovviamente quando inizi inizi una cosa nuova hai sempre un po' di timore perché abbiamo paura un po' tutti dello sconosciuto però poi viene mano a mano le cose che sia la pratica che sia diciamo la passione che ti viene da dentro è una cosa che ti viene naturale poi vai lì ti diverti ti alleni poi come hai detto te il calcio essendo uno sport di squadra crei anche diciamo un gruppo e lì poi le cose vengono mano a mano e questo ti ha aperto praticamente anche alla nazionale appunto alla squadra prima qual è il nome della squadra? allora la squadra italiana si chiama Sporting Sporting Ampo Football che però adesso ovviamente sono passato in un'altra squadra e gioco in Polonia nel Kuloporni Bielskobiala non proprio soprattutto da imparare quante volte hai ripetuto questo nome? parecchie volte anche prima di andare a letto giusto per ripassarlo esatto e come è nata l'idea o come hai saputo anche perché spesso magari non si sa che c'è l'opportunità di giocare a calcio sì allora l'ho saputo grazie a mia sorella che ha visto un post su Facebook dell'attuale capitano della nazionale Francesco Messori quello che ho detto prima e da lì diciamo che ha visto questo post l'ha detto ai miei genitori e abbiamo detto perché no c'era il raduno a Correggio siamo andati lì e da lì poi è nato tutto mano a mano il problema è che quando sono nato lì è la piccola cosa differenza che si deve giocare con le stampelle perché le regole mondiali prevedono di giocare con le stampelle e io quindi ho dovuto abbandonare la protesi e ricominciare da capo a giocare a calcio non abbiamo una maglia esatto qui no? raccontaci la storia di questa maglia allora questa è una delle maglie più importanti per me perché oltre a essere verde che è il mio colore preferito il verde è la maglia con cui abbiamo vinto l'ultimo campionato con la mia ex squadra italiana lo sporting dove l'abbiamo vinto proprio nello stadio di Fano cioè della mia città quindi è stato l'incoronamento di un grande di un grande diciamo percorso tra virgolette e grazie a quella poi grazie a quella vittoria adesso quest'anno andremo a fare la Champions League in Spagna ed è stato questa maglia mi diciamo mi tira su tanti ricordi perché è stata una grande partita c'era un grande tifo e poi giocare nella propria città è sempre un'emozione sì sì cosa è pesa? no dai è abbastanza se pesa è per il caldo non per altro allora mi dispiace soltanto che chi ascolta soltanto l'audio non può vedere però però ogni mia maglia comunque oltre il verde che è il mio colore preferito ha anche una cosa in comune che è il numero 11 che è anche per me è un numero importante ed è è diciamo un po' il mio numero banalmente in che ruolo giochi? io gioco sulla fascia però c'è da dire che il calcio amputati è diverso dal calcio 11 perché si gioca a 7 i giocatori in movimento che sono 6 devono avere le stampelle mentre il portiere ha due gambe però non deve avere un braccio per equiparare le cose il portiere ora spiego un po' le regole in generale lo stavo per chiedere il portiere non può uscire dall'area di rigore perché ovviamente sarebbe facilitato avendo due gambe ha la possibilità di scartare anche gli altri non è così facile però comunque si avrebbe la facilità avendo due gambe e oltre a questo poi la palla non la può toccare con le stampelle se no è come fallo di mano esatto però poi lì sta a discrezione dell'arbitro se ha munizione oppure no e per il resto è come il calcio normale ah ci sono due tempi da 25 e ci sono i cambi liberi come nel basket poi per il resto ci sono i falli i gol l'ammunizioni espulsioni c'è tutto è come il calcio normale parleremo anche delle espulsioni parleremo perfetto non ci lascio niente racconteremo un aneddoto anche sulle espulsioni ovviamente abituarsi a giocare a calcio in una maniera totalmente diversa rispetto a quello che avevi fatto prima è stato un approccio un po' più complicato no? esatto sì perché comunque si ricominci da capo esatto giocare a calcio con le stampelle era difficile soprattutto perché non avevo mai preso le stampelle avevo girato sempre tu hai mai preso le stampelle io giravo sempre o con la protesi o dentro casa saltellavo quindi puoi immaginare come ero come ero la prima volta che ho saputo che dovevo mettere le stampelle però poi lì è stata una cosa diciamo anche lì di passione perché poi quando ti piace qualcosa tu la fai non importa cosa c'è nel mezzo tu lo superi quindi è nata bene diciamo raccontaci anche perché immagino che poi ogni partita nasconde cioè ha dentro di sé comunque un'emozione diversa il primo gol ok sì com'è stata quella sensazione allora il primo gol me lo ricordo perché eravamo in Polonia ed ero veramente piccolo avrò avuto 14 anni era una partita di un torneo però era un torneo amichevole perché nelle partite ufficiali non avrei potuto giocare perché ho detto minima 16 anni giocavo contro il belgio e in pratica stavo vincendo e allora il mister mi mette in campo e tutta la squadra giocava solo per farmi fare gol perché ero il più piccolo perché comunque era era una cosa veramente emozionante entravi in campo con la maglia della nazionale e ovvio che volevo segnare e sono riuscito a fare gol ho tirato di punta sotto le gambe del portiere andata anche dalla panchina sono venuti a festeggiare è stato veramente qualcosa di epico me lo ricordo ancora ed è passato veramente tanto tempo dopo da lì mi sono riuscito a togliere per fortuna qualche altra soddisfazione però il primo gol non si scorda mai il nazionale quindi ci parli nazionale e pesa un po' quella maglia no? è un grande onore è una grande emozione ovviamente perché quando entri in campo con la maglia azzurra non rappresenti ovviamente solo te stesso solo quella squadra lì rappresenti la nazione tutte le persone che ti guardano e tutte le persone che ti vogliono bene ed è una grande emozione soprattutto per quello quando hai ricevuto la chiamata quali sono state le emozioni? allora era un mix di emozioni perché prima di tutto sei felice non riesci a stare nella pelle poi dopo pensi anche a ciò che comporta perché ti comporta anche tanto diciamo tanta responsabilità è andare nazionale perché oltre a giocare tu devi essere anche un esempio quindi è stata una chiamata importante che oltre a darmi felicità mi ha dato anche tanta responsabilità sicuramente te hai fatto diverse competizioni comunque con la maglia nazionale no? tra cui anche un mondiale sì dove? allora sono andato a fare un mondiale nel 2018 in Messico e un mondiale l'anno scorso in Turchia come sono andati? raccontaci allora il primo mondiale comunque c'è rispetto a giocare un amichevole arrivare comunque a un mondiale comporta ancora più pressione sicuramente tanta roba perché poi quando arrivi lì vuoi fare il meglio possibile è naturale il primo mondiale in Messico è stato speciale anche perché come dicevo prima l'età minima per giocare a 16 anni io ho giocato a 15 anni perché in pratica il mondiale era nel periodo in cui io avrei dovuto fare 16 anni ancora non li avevo compiuti però la federazione ha fatto una deroga che mi ha dato la possibilità di giocare quindi ho giocato il mio primo mondiale a 15 anni e lì è stata un'emozione perché affrontavi squadre dell'altro diciamo di altri continenti proprio di un altro mondo perché poi viaggiando scopri anche tante tante cose poi vai in Messico che era una piatta tra virgolette caldissima perché l'Alcala ci ha amputati è considerato veramente top era pieno di gente allo stadio quando giocavi non sono riuscito a fare gol in quel mondiale però è stato il mio esordio più bello sicuramente sì tipo che nazioni incontrati allora avevamo nel girone Ghana avevamo l'Argentina e la Francia e in quel giro ne siamo passati come primi quindi immagina che emozione è stata giocare contro queste grandi squadre che comunque sono veramente rinomate in giro per il mondo e poi com'è andato quel mondiale quel mondiale non è andato tanto bene perché poi abbiamo avuto sfortuna tra virgolette nel sorteggio perché non era a combinazioni il mondiale ma era a sorteggio quindi noi siamo passati come primi e ci hanno sorteggiato una seconda però ci hanno sorteggiato la miglior seconda che poi è andata a vincere il mondiale che era l'Angola e Angola è una squadra africana che magari si può pensare ma come fa a vincere una squadra africana magari che nel calcio moderno tra virgolette non sono troppo rinomate può vincere perché la cosa importante è che loro non hanno le protesi loro passano la vita sulle stampelle e quindi giocare a calcio con le stampelle è come se giocassero a calcio con due gambe ed è quella la cosa diciamo che gli da una marcia in più tra virgolette poi dopo hanno hanno un grande fisico una grande resistenza sono veloci sono veloci è quello che diciamo non dico ci ha fregato però noi abbiamo fatto la nostra partita alla fine abbiamo perso 2 a 0 che è stata però una grande partita di sacrificio sarebbe potuto andare in maniera diversa col mondiale ma con i 6 con i mano non ci si fa niente sicuramente ci sono tolti la soddisfazione però 4 anni dopo sicuro c'è da dire che perdere comunque con quella squadra che ha poi vinto con quel campionato mondiale diciamo che rosichi un po' si ti pesa di meno tra virgolette sai che quella squadra ha vinto il mondiale quindi dice abbiamo perso contro i campioni però dopo quando siamo usciti agli ottavi abbiamo fatto le partite di qualificazioni e lì secondo me avevamo un po' perso la testa perché comunque saremmo potuti arrivare posizionarci bene almeno noni ovviamente erano tra le prime 8 perché eravamo usciti però dopo li siamo andati un po' diciamo a scendere a calare siamo arrivati ai 13esimi su 24 squadre che sono sicuro che per diciamo il livello fisico che avevamo avremmo potuto appuntare molto di più però è nata così quando è nata la nazionale di calcio l'avevi già detto però mi sfugge allora la nazionale di calcio è nata all'incirca nel 2012 ad Assisi ed era il primo mondiale quindi nel 2018 o no? no il primo mondiale è stato nel 2014 però io ovviamente sono nato come mascot con mio padre quindi hai vissuto anche quello comunque sì l'ho vissuto ovviamente da esterno però c'ero anche lì infatti quando quando è nata la nazionale io già c'ero tra virgolette ed è una cosa emozionante perché la maggior parte degli eventi li ho vissuti magari non in prima persona però li ho vissuti quindi è stata ed è una grande emozione per me ci hai parlato di questa rivincita il mondiale successivo raccontaci un po' mondiale ad istanbul che è stato svolto l'anno scorso è stata un po' la rivincita sia la nazionale sia per me perché anche lì mi sono riuscito a togliere qualche soddisfazione anche è stato un mondiale veramente veramente difficile perché ogni anno che passa il livello si alza e devi stare sempre al passo tra virgolette certo e poi nel girone che nazionale avevate? allora nel girone avevamo l'Irak avevamo l'Angola e avevamo l'Uruguay semplice no anche lì anche perché io penso che anche a livello di guerra in Iraq penso che comunque c'erano tanti amputati esatto e c'è diciamo ci sono anche storie dentro altre storie in quelle partite perché noi abbiamo un ragazzo che ha perso una gamba in guerra in missione di pace in Libano se non sbaglio adesso non vorrei dire non vorrei dire diciamo posti sbagliati però ha perso comunque una gamba in missione di pace e tu vai a affrontare giocatori dell'Ira che può essere che ti abbia incontrato e anche lui ce l'ha detto io può essere che quelle persone di quei ragazzi li abbia incontrati sul fronte ed è una cosa che tra virgolette ti emoziona perché tu passi dalle armi tra virgolette perché poi è quello la guerra quando vai in quei posti lì che sono posti difficili sono storie difficili ed è la cosa lì mi ha fatto veramente venire i brividi perché oltre all'Iraq c'era anche l'Iran c'era anche squadre come l'Uzbekistan appena detto questa piccola cosa che magari per noi era scontata non ci pensavamo ma per lui no perché lui l'ha vissuto in prima persona è una cosa che ti fa venire veramente i brividi ti fa pensare ti incontri prima sul fronte con le armi poi ti incontri su un campo da calcio è una cosa che è emozionante sicuramente sì comunque ti fa anche riflettere un pochettino su come la vita può cambiare ma al suo tempo ti può portare anche a vivere emozioni diverse esatto sì sicuramente però quel mondiale ovviamente volevamo fare tutti bene quando vai a giocare una partita vuoi vincere è normale comunque sia e dopo succede cosa succede è comunque una partita di calcio allora io mi vorrei fermare qui voglio lasciare gli ascoltatori comunque con la curiosità di sapere quel mondiale come è finito perché noi ci siamo lasciati comunque a gironi è stata quindi anche una rivincita contro l'angola poi ci racconterai come è andata anche lì però intanto ti ringrazio per questo primo momento in cui siamo stati insieme grazie grazie a te veramente e quindi io vi invito gli ascoltatori a sintonizzarsi mercoledì prossimo appunto alle ore 20 per scoprire appunto la seconda parte della storia di vita di Lorenzo Marcantonini appunto e di conseguenza appunto vi ricordo anche di seguire le puntate precedenti e quelle che verranno sulla nostra piattaforma su YouTube cercando appunto è Hop Media Italia e su Spotify Apple Podcast e Google Podcast cercando Socialite Podcast inoltre vi invito anche a consultare la nostra pagina Instagram dove lì appunto a volte spoileriamo anche le puntate precedenti e quindi grazie per l'ascolto a mercoledì prossimo a mercoledì prossimo